Ciao ragazzi, ben trovati. In questa lezione cercheremo di capire che cosa si intende quando si parla di Stato italiano, che differenza c'è quando usiamo il termine Italia applicato per esempio alla storia del Medioevo, alla storia moderna, o quando lo usiamo se parliamo dell'oggi o della storia più recente. E ripercorreremo brevemente anche come è cambiato lo Stato italiano nel corso della sua storia, che non è una storia molto lunga in realtà, vedremo quando nasce esattamente lo Stato italiano e quali sono le sue istituzioni principali. Innanzitutto partiamo proprio dal concetto di Italia. Quando negli scorsi anni di scuola era capitato di studiare in storia varie civiltà, vari periodi, e ricorreva il termine Italia, questa espressione indicava un'area geografica. Si parla di Italia nella storia antica, quindi l'epoca della storia di Roma, o nel Medioevo, o anche nella storia moderna, cioè nella storia che va dalla fine del 1400 alla fine del 1700, come di una ampia area geografica, che è quella che corrisponde più o meno al territorio dell'Italia attuale, cioè il territorio che sta a sud delle Alpi, che comprende la penisola italiana e anche le isole, la Sicilia e la Sardegna. Ecco, questo territorio diventa parte dello Stato romano e quello che poi sarà l'impero romano. Dopodiché nella storia del Medioevo, come vediamo, viene dominato di volta in volta da diversi popoli, da diversi regni che occupano, conquistano parti dell'Italia. Quindi non abbiamo un unico Stato italiano, ma l'Italia esiste come grande unità geografica con una popolazione che parla una serie di varietà dell'italiano, i cosiddetti italiani volgari, queste lingue antiche che in qualche modo sono sviluppate fino ad arrivare all'italiano attuale. Anche una cultura più o meno abbastanza comune, pur con tante differenze. Tenete conto che l'Italia per millenni è una terra di incontri, di scambi fra culture diverse, di migrazioni, di invasioni. E questo territorio, però, politicamente, è occupato di volta in volta, nelle sue varie parti, da diversi Stati, oppure vede nascere diverse realtà politiche, anche molto, molto frammentarie. Per esempio, nel corso del Basso Medioevo si parla dell'Italia dei Comuni, poi l'Italia delle Signorie. Vediamo come, a partire dalla fine del 1400, inizio 1500, l'Italia diventa sempre più terra di conquista per Stati stranieri. Insomma, la storia dell'Italia è molto complessa, molto travagliata anche, però è un'Italia sempre intesa come unità geografica, non come uno Stato, tant'è che il territorio italiano è proprio suddiviso, sarà suddiviso per molto tempo, fra diversi piccoli Stati, oppure sarà occupato da potenze straniere. È solo a partire dall'inizio del 1800, del XIX secolo, che in molti abitanti dell'Italia, non dovunque, non in maniera uniforme, si sviluppa un cosiddetto sentimento nazionale, cioè un desiderio di far parte di un unico Stato italiano, appunto, quindi di unire quella unità geografica, linguistica, culturale, ad una unità anche politica. È il periodo che sarà chiamato, infatti, risorgimento, un periodo in cui per diversi decenni ci sono persone che si battono per cercare di cacciare, di allontanare quelle potenze straniere che occupavano parti dell'Italia, o rovesciare quei domini, quei piccoli Stati che comprendevano alcune delle attuali regioni italiane. Ci sono anche molte divisioni in questo senso, perché c'è chi vorrebbe far nascere questa Italia come una monarchia, chi la vorrebbe far nascere come uno Stato repubblicano. Ci sono, insomma, diverse idee. Quando poi ci saranno le cosiddette guerre di indipendenza, quindi effettivamente l'Italia si ricomporrà fino a porre le condizioni per poter creare uno Stato unitario, questo Stato nascerà a partire da uno Stato già esistente, che è il Regno di Piemonte e Sardegna. Questo regno era governato all'epoca da re Vittorio Emanuele II della dinastia dei Savoia, che è il personaggio in questo dipinto, vedete, rappresentato a cavallo sulla destra. Il personaggio a sinistra invece è Giuseppe Garibaldi, uno dei principali patrioti italiani, e ecco questo quadro molto famoso rappresenta quel momento precedente proprio alla nascita, alla proclamazione del Regno d'Italia. Questo Regno d'Italia viene proclamato il 17 marzo 1861, che quindi è la data di nascita, possiamo dire, dell'Italia dal punto di vista politico. Se parliamo d'Italia prima di questa data, prima del 1861, parliamo di un'area geografica, ok? Esclusivamente geografica. Dal 1861 possiamo parlare di Italia come di uno Stato vero e proprio, uno Stato che nasce, attenzione, come una monarchia, quindi il capo di Stato è un sovrano. Il primo re d'Italia fu Vittorio Emanuele II, che era già re appunto del precedente Regno di Piemonte e Sardegna. Attenzione a un altro aspetto importante, perché quando nel 1861 nasce l'Italia, il territorio non corrisponde esattamente a quello dell'Italia attuale. Se guardiamo questa mappa, il territorio italiano del 1861 è soltanto quello in azzurro. Cosa manca rispetto a... all'Italia attuale? Manca quell'area celeste chiaro, su cui vi avete scritto Regno Lombardo-Veneto, perché ancora questa parte era un dominio austriaco, soltanto nel 1866 con la Terza Guerra d'Indipendenza, verrà poi conquistata, annessa anche questa parte a nord-est dell'Italia, e mancava quello che all'epoca era lo Stato pontificio, più o meno il territorio del Lazio, inclusa la città di Roma. Roma diventerà parte dell'Italia soltanto nel 1870. Poi avverranno altri cambiamenti importanti dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi dopo il 1918, quando al territorio dell'Italia come Stato si aggiungeranno anche il Trentino Alto Adige e una parte dell'attuale Friuli Venezia Giulia. Quindi è importante ricordare che per i primi 85 anni della sua storia, dal 1861 fino al 1946, l'Italia fu una monarchia. Nei primissimi anni di esistenza di questo regno la capitale era Torino, che era già la capitale del regno di Piemonte e Sardegna, dopodiché, dopo un brevissimo passaggio a Firenze, diventerà la capitale ufficialmente Roma, che verrà sottratta allo Stato pontificio e insieme a tutto il Lazio diventerà parte dello Stato italiano. In questo periodo c'è già una Costituzione, cioè l'insieme delle leggi fondamentali di uno Stato, la Costituzione era quella già esistente in parte nel regno di Piemonte, chiamata lo Statuto Albertino. Non è più, ovviamente, la Costituzione che abbiamo oggi in Italia. Dunque, abbiamo detto che l'Italia rimane un regno per 85 anni. Cosa succede dopo? Perché c'è questo cambiamento importante. Allora, nel 1946 l'Italia, così come tutto il resto praticamente del pianeta, è reduce dalla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale dura dal 1939 al 1945. L'Italia entra in guerra per volontà del regime che c'era all'epoca nel 1940 e questi cinque anni segnano, come per tutto il mondo, appunto un periodo estremamente tragico che porta a tantissime vittime, a tantissimi danni in tutto il paese. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, un anno dopo, nel 1946, si decide di indire un referendum sulla forma istituzionale dello Stato, cioè sulla forma di governo sull'ordinamento politico che avrebbe avuto l'Italia da lì in poi. Ovvero, tutti i cittadini del paese, per la prima volta anche le donne che non avevano mai potuto votare prima del 1946. Quindi uomini e donne di maggiore età vengono chiamati a partecipare a una votazione, chiamata appunto al referendum, per decidere se confermare la monarchia o passare alla repubblica, quindi cambiare forma di governo. È un momento estremamente importante per la storia italiana. È un momento importante anche perché segna un ritorno dell'Italia alla democrazia, cioè la possibilità di far esprimere liberamente la volontà dei cittadini, proprio attraverso il voto. Infatti l'Italia era reduce da vent'anni di un regime dittatoriale, di una dittatura, il fascismo, dominata da Benito Mussolini, che era stato capo del governo ma aveva avuto un potere assoluto nelle proprie mani, aveva soppresso tutte le libertà democratiche del paese e questa dittatura era stata permessa, anzi era stata favorita, proprio dal sovrano dell'epoca, Vittorio Emanuele III. Ora, proprio questa responsabilità gravissima della monarchia italiana nell'appoggiare, nell'avere appoggiato per così tanto tempo il fascismo, nell'aver anche permesso per esempio l'approvazione delle leggi razziali contro gli ebrei, fu un fattore determinante nel far sì che il 2 giugno del 1946, data di questo referendum, i voti per la repubblica fossero la maggioranza. 12 milioni e quasi 200 mila persone votarono infatti per il passaggio alla repubblica, quindi con il risultato di questo referendum decadde la monarchia e l'Italia diventò una repubblica. Ancora oggi, infatti, il 2 giugno si festeggia la festa della repubblica. L'altra importantissima festa nazionale dell'Italia è il 25 aprile, che celebra invece il 25 aprile 1945, data della sconfitta del fascismo e del nazismo in Italia, appunto. Con il passaggio dalla monarchia alla repubblica diventava fondamentale scrivere anche una nuova costituzione, una costituzione che rispecchiasse questo nuovo ordinamento politico dello Stato italiano. Infatti, a partire dal 1946, inizia il lavoro di una cosiddetta assemblea costituente, cioè di un gruppo di persone che, sulla base di un mandato elettorale, quindi di voti ricevuti dal popolo, iniziano a redigere, a scrivere i vari articoli di questa nuova costituzione. La costituzione verrà poi approvata nel dicembre del 1947 ed entrerà in vigore ufficialmente il primo gennaio 1948. Da quella data, dall'inizio del 1948, sarà a tutti gli effetti valida nel nostro paese. Cos'è di preciso una costituzione? Allora, è un documento di legge che contiene i principi fondamentali su cui è costruito uno Stato, specifica quali sono le sue istituzioni principali e quali sono i vari poteri, i vari compiti di queste istituzioni, e poi contiene un elenco dei principali diritti e doveri a cui sono soggetti i cittadini dell'Italia. Dunque, abbiamo detto che l'Italia dal 1946 diventa una repubblica. C'è un aspetto però da sottolineare, ovvero la repubblica è una grande categoria, deriva dal termine res pubblica, cioè la cosa di tutti, ed è una forma di governo che nasce proprio anticamente pensando che la sovranità, ovvero il potere di decidere dello Stato, non sia affidato a una singola persona, ma sia condiviso da tutto il popolo. Esistono però, in epoca contemporanea, esistono oggi diversi tipi di repubblica. L'Italia rientra in una categoria che è detta repubblica parlamentare. Che vuol dire? Che nella repubblica parlamentare il capo dello Stato, ovvero il Presidente della Repubblica, non viene eletto dai cittadini, ma viene eletto dai membri del Parlamento. Quindi ogni sette anni, la durata del mandato del Presidente della Repubblica, la durata di questa carica, tutto il Parlamento italiano, la Camera dei Deputati e il Senato, si riunisce per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Qui nell'immagine vedete rappresentato il Palazzo del Quirinale, che è la sede appunto del capo dello Stato. In Italia il Presidente della Repubblica non ha funzioni di governo, cioè non è lui a governare il Paese, attenzione. Lui ha il compito intanto di assegnare l'incarico di formare un nuovo governo, cioè di scegliere il capo del governo, basandosi ovviamente su chi ha vinto le elezioni, su quali sono gli equilibri, diciamo, in Parlamento che consentono poi di far sì che un governo possa funzionare, possa avere il sostegno del Parlamento. Poi questi aspetti più specifici verranno approfonditi in un'altra occasione. E inoltre è un garante, cioè colui che deve garantire che siano rispettati gli equilibri fra i vari poteri, che le istituzioni facciano il loro dovere, facciano il loro compito, e che le leggi che vengono discusse discusse ed eventualmente approvate dal Parlamento rispettino i principi di base della Costituzione. Allora, visto che l'abbiamo citato, concludiamo questo video facendo riferimento a che cos'è il Parlamento. Il Parlamento è una grande assemblea legislativa, ovvero un'assemblea che detiene il potere legislativo, il potere di fare le leggi, di approvare nuove leggi, di modificare le leggi già esistenti, oppure anche di cancellare alcune leggi. Il Parlamento in Italia è bicamerale, che vuol dire che è composto da due diversi rami, da due diverse assemblee. Queste assemblee sono la Camera dei Deputati e il Senato. Il Parlamento è l'espressione della volontà popolare, cioè i membri del Parlamento, deputati e senatori, vengono eletti direttamente dai cittadini attraverso le cosiddette elezioni politiche. Le elezioni politiche si svolgono normalmente ogni cinque anni, ovvero la durata normale di un Parlamento, la cosiddetta legislatura, dura cinque anni, anche se in alcuni casi si può tornare a votare anche prima. E quindi i parlamentari sono in realtà rappresentanti dei cittadini, perché vengono eletti sulla base delle preferenze, delle scelte dei cittadini, degli elettori, di chi va a esercitare il diritto di voto. Invece il potere esecutivo, ovvero il potere di prendere decisioni per lo Stato e di applicare queste decisioni, quindi di governare, è assegnato appunto al Governo. Il Governo però, per poter funzionare, per poter far sì che queste decisioni diventino legge, ha bisogno dei voti della maggioranza del Parlamento, che quindi è un organismo fondamentale per il funzionamento dello Stato.